Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna d'Andrea Raggini, l'Emilia Romagna è interessata ancora da questa alta pressione che garantisce belle giornate di sole in appennino mentre sulle pianure come potete vedere alle mie spalle è la nebbia a dominare la scena e come potete vedere da questa mappa inallegato dell'ARPA la situazione è pessima per quanto riguarda anche la qualità dell'aria questo causa appunto dell'assenza di ventilazione che incastra l'inquinamento e lo rende fermo proprio alle aree di pianura la situazione meteo anche nella giornata di sabato vedrà un tempo grigio e nebbioso in pianura con nebbia trattifitte soprattutto al mattino mentre in appennino inizialmente ci sarà il sole anche se dal pomeriggio la nuvolosità tornerà ad aumentare le temperature saranno molto basse al mattino sulle pianure comprese tra meno 2 e più 2 gradi ma anche durante il giorno faticheremo a superare i 2 3 gradi nelle aree in cui la nebbia insisterà mentre nelle aree in cui giungerà un po' di sole potremo raggiungere i 7 8 gradi ma farà più caldo in appennino questo a causa della risalita di aria calda in quota che determinerà valori massimi anomali per il periodo con punte di 12 13 gradi anche a quota di alta collina e il nostro appennino si presenta purtroppo ancora senza neve dalla giornata di domenica la nuvolosità risulterà compatta anche in appennino con deboli precipitazioni su bassa romagna per ora è tutto buona serata da andrea raggini